Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. E' il novembre del 2015, ci troviamo a Ipstok, una cittadina situata nel nord ovest della contea di Leicestershire, in Inghilterra. La protagonista del caso di oggi si chiama Kaylee Haywood, un adolescente che vive a Leicestershire con la sua famiglia, in particolare abita in un villaggio chiamato Misham. Kaylee nasce il 6 agosto del 2000, da Martin e Stephanie, ha cinque fratelli e una sorella e ama follemente la sua famiglia numerosa. Il rapporto tra Kaylee e sua madre è davvero speciale, le due sono così legate da sembrare più sorelle o migliori amiche, infatti amano passare il tempo insieme, fare shopping o andare dal parrucchiere. Crescendo, Kaylee viene descritta come una ragazzina molto gentile, frizzante e anche alquanto testarda. Non ha paura di difendere ciò in cui crede ed è piuttosto loquace. Kaylee vive un'infanzia molto felice, ma quando entra nell'adolescenza la sua vita prende una svolta negativa, in quanto inizia ad avere qualche problema a scuola. E' vittima di bullismo, molti dei suoi compagni la prendono in giro per il suo peso e la chiamano con nomignoli orribili ogni singolo giorno. Purtroppo Kaylee non subisce solo il bullismo verbale, dato che le lanciano anche contro delle bottigliette d'acqua o, peggio, le sputano addosso. Kaylee quindi inizia a non voler andare più a scuola, odia mettere i piedi lì dentro, vuole restare a casa, dove si sente al sicuro. Così i suoi genitori decidono di revocare l'iscrizione della figlia da quell'istituto e, nella nuova scuola che frequenta, Kaylee sperimenta finalmente un ambiente completamente diverso. Non subisce alcun tipo di bullismo, fa presto amicizia con i compagni di classe ed è di nuovo felice di andare a scuola. Kaylee inizia a essere attiva sui social media e uscire con le nuove amiche, insieme vanno a fare shopping e chiacchierano delle loro cotte. Venerdì 13 novembre del 2015, alla fine della giornata di scuola, Kaylee chiede ai suoi genitori se quella notte può andare a dormire da una delle sue migliori amiche. Loro conoscono bene questa ragazza, quindi acconsentono la richiesta. Anzi, sono molto felici per Kaylee. Quella sera Martin accompagna sua figlia al centro ricreativo locale e Kaylee gli dice che la sua amica sta nuotando lì quella sera. Allora lui lascia la figlia nel parcheggio del centro ricreativo e si salutano. L'accordo è che la ragazza torni a casa il giorno successivo, tuttavia sabato 14 novembre Kaylee manda un messaggio a sua mamma Stephanie e le chiede se può stare con i suoi amici per un'altra notte. Sarebbe quindi rincasata la domenica. Stephanie glielo permette perché è felice di sapere che sua figlia sia finalmente integrata con le coetanee. Arriva la mattina di domenica 15 novembre. Kaylee sarebbe dovuta tornare a casa ma Stephanie viene contattata dall'amica di sua figlia. La ragazza le chiede se Kaylee sia rientrata a casa e Stephanie diventa perplessa perché era convinta che sua figlia si trovasse con l'amica dal venerdì sera. Ma la ragazza smentisce, Kaylee non è stata con lei, non la vede da un paio di giorni a dirla tutta. Pare proprio che Kaylee abbia mentito ai suoi genitori. Ma perché? Dove si trova realmente? I suoi genitori sono particolarmente preoccupati e questa preoccupazione diventa paura quando l'amica di Kaylee dice a Stephanie che il telefono della figlia è stato ritrovato quella mattina da un muratore. Lo ha recuperato mentre stava lavorando nel villaggio di Ibstock, a 5 miglia di distanza da Misham, dove Kaylee vive. Il muratore ha cercato quindi di capire a chi apparteneva questo iPhone bianco con lo schermo rotto ritrovato per terra. Così ha controllato la cronologia delle ultime chiamate e ha contattato la migliore amica di Kaylee. Dopo aver appreso la notizia, lei ha deciso di chiamare la madre della ragazza, Stephanie. È a questo punto che emerge la verità. Kaylee non ha detto ai suoi genitori dove era realmente e pare che sia scomparsa. Nessuno al momento ha idea di dove si trovi. I genitori di Kaylee nel panico decidono di chiamare la polizia e di denunciare la scomparsa della figlia. La polizia prende molto sul serio questa denuncia. Kaylee ha solo 15 anni, quindi viene immediatamente fatto un appello al pubblico per cercare di ottenere delle informazioni. Intanto la polizia raccoglie anche le dichiarazioni della famiglia di Kaylee. Vuole capire che tipo di ragazzina è, che vita conduce, chi sono i suoi amici, se è un fidanzato o se è attiva sui social media. I suoi genitori rispondono che, come tutti gli adolescenti, Kaylee era sempre attaccata al telefono ed era, tra l'altro, molto attiva sui social. Questa informazione avvia l'indagine. Si parte analizzando il suo iPhone e i messaggi scambiati sui social. Forse la polizia riuscirà così a scoprire dove era andata nel fine settimana. Quando la polizia controlla il profilo Facebook di Kaylee, scopre che, prima della sua scomparsa, era stata in contatto con un uomo. I messaggi che si sono scambiati rivelano che lei e questo sconosciuto avevano programmato di incontrarsi la sera di venerdì 13 novembre. Il nome di quest'uomo è Luke Harlow. Lui e Kaylee erano entrati in contatto per la prima volta circa due settimane prima che la ragazzina scomparisse. Il 31 ottobre del 2015 Kaylee aveva ricevuto una nuova richiesta di amicizia da lui e, dopo averla accettata, Luke le aveva immediatamente inviato un messaggio con scritto «Ciao, come stai?» Kaylee aveva risposto «Ciao, ci conosciamo?» perché lei non se lo ricordava. Luke le aveva risposto che avevano un amico in comune e i due avevano continuato a mandarsi messaggi. Mentre la polizia legge questi messaggi, nota che Luke aveva iniziato a soprannominare Kaylee con vezzeggiativi come «piccola» e «tesoro». Aveva iniziato anche a chiamarla «bellissima» o ancora «principessa» e le aveva chiesto se aveva un fidanzato. Quando Kaylee gli aveva risposto di no, Luke aveva iniziato a scriverle lusing del tipo «Oh, ma come fai a non avere un fidanzato? Sei così carina!» E alquanto ovvio dai messaggi di Luke che stava cercando di flirtare con Kaylee, cosa che probabilmente la ragazza aveva fatto piacere. Quelli sembrano dei normali messaggi tra due persone che iniziano a chattare, se non fosse che Kaylee è una ragazzina di 15 anni, mentre Luke ne ha 26. Questo vuol dire che un uomo adulto stava adescando una ragazzina, anche se Kaylee all'inizio aveva mentito a Luke dicendogli chi aveva 19 anni. Tuttavia presto Luke aveva capito che Kaylee era molto giovane di quanto aveva affermato. Probabilmente gli era bastato guardare le sue foto per capire che lei stava mentendo sulla sua età. Luke gli ha rivelato il suo sospetto e lei allora ha ammesso immediatamente di avere 15 anni. È proprio in questo momento che Luke avrebbe dovuto smettere di mandare dei messaggi a Kaylee, cosa che non è avvenuta. Luke aveva precisato a Kaylee che lei non poteva dire a nessuno che si stavano scommiando dei messaggi, altrimenti lo avrebbe messo nei guai. Luke quindi era ben consapevole che quello che stava facendo era sbagliato. Kaylee ovviamente era lusingata dai suoi complimenti, ma fin troppo giovane per rendersi conto dei pericoli della situazione. Come detto Luke stava cercando di adescare Kaylee. Non passa molto tempo prima che i messaggi di Luke diventino particolarmente intimi. Infatti scrive a Kaylee che l'avrebbe voluta vedere a casa sua senza vestiti. In uno dei messaggi Luke scrive alla ragazza Dobbiamo andare a bere qualcosa tesoro così posso farti ubriacare. In un altro si legge Ti coccolerei tutto il giorno ma sarei troppo tentato di fare cose cattive se fossi nel mio letto nuda. I messaggi di questo tipo diventano sempre di più. Luke proponeva costantemente a Kaylee di andare a casa sua. Così si sarebbero incontrati. In effetti è esattamente quello che avevano intenzione di fare nel fine settimana in cui Kaylee è scomparsa. Kaylee dunque aveva mentito ai suoi genitori dicendo loro che sarebbe andata a dormire da un'amica. Ma i messaggi del suo telefono mostrano che si era accordata per andare a casa di Luke e stare con lui. Se Kaylee avesse raccontato ai suoi genitori la verità loro non l'avrebbero mai lasciata uscire con lui chiaramente. Però vi ricordo che Luke le ripeteva di non dire a nessuno che si stavano sentendo altrimenti sarebbe finito nei guai. Kaylee quindi manteneva il segreto. La polizia a questo punto ha individuato la prima persona da tenere d'occhio per il caso di Kaylee. Sicura che qualsiasi cosa sia successo alla ragazza, Luke è indubbiamente coinvolto. La polizia dunque decide di andare a casa sua, a Hipstock. Quando arriva spera di trovare lì la ragazzina ma sfortunatamente non c'è alcuna traccia di Kaylee. Tuttavia la polizia chiede a Luke se può recarsi alla centrale di polizia per essere interrogato sulla scomparsa di Kaylee. E Luke accetta e è molto collaborativo con gli agenti. Loro lo fanno sedere in una stanza presso la stazione di polizia e iniziano a fargli delle domande sulla sua relazione con Kaylee. Quando hanno iniziato a chattare chi è stato il primo a mandare dei messaggi, Luke spiega che non ricorda se era stata lei ad aggiungerlo agli amici di Facebook e sottolinea che in ogni caso non si scrivevano nulla di compromettente. La polizia allora interroga Luke sui messaggi che aveva inviato a Kaylee, in particolare quelle di natura intima. Inoltre quando la polizia sequestra il telefono di Luke per esaminarlo si rende conto che l'uomo ha eliminato una grande quantità di messaggi. Lui e la ragazzina in tutto si erano scambiati circa 2000 messaggi e prima di essere interrogato Luke ha cancellato tutti quelli in cui rivolgeva commenti troppo spinti a Kaylee. Tuttavia la polizia quei messaggi li aveva già letti dal profilo Facebook di Kaylee. Gli agenti chiedono a Luke che cosa ha fatto il fine settimana in cui Kaylee è scomparsa e lui ammette che la ragazzina era andata a casa sua, quindi racconta la sua versione dei fatti. Luke riferisce che nella sera di venerdì Kaylee era andata a casa sua ed era rimasta a dormire lì quella notte. Avevano bevuto degli alcolici insieme e Luke ammette che avevano avuto un avvicinamento intimo senza spiegare esattamente cosa hanno fatto. Anche se Kaylee lo aveva secondato, un rapporto con una ragazza così piccola non può essere considerato consensuale e Luke ne era pienamente consapevole. Il giorno successivo, il sabato, Kaylee aveva accettato di stare con lui un'altra notte. Quindi aveva scritto un messaggio a sua mamma Stephanie chiedendone di poter dormire di nuovo a casa dell'amica e sua madre aveva accettato. Luke dice alla polizia che quel sabato sera avevano bevuto di nuovo, tuttavia ben presto l'alcol era finito. Quindi lui aveva deciso di andare da uno dei suoi vicini per chiedere se avesse qualcosa da prestargli, magari delle bevande da mischiare con la vodka che Luke ancora aveva. Il suo vicino, Stephen Bidman, ha 29 anni e vive in un appartamento dietro alla casa di Luke. Luke nel fargli la richiesta gli aveva spiegato che c'era una ragazza a casa sua, che si stavano ubriacando insieme, che stavano facendo una piccola festicciola. Questa storia aveva incuriosito Stephen, il quale aveva detto a Luke che non aveva alcolici in casa, ma l'avrebbe accompagnato al negozio locale per prenderne un po'. Poi anche lui avrebbe incontrato questa ragazza a casa di Luke. I due quindi riforniti di alcolici erano tornati a casa di Luke e avevano iniziato a bere tutti insieme. Intorno a mezzanotte, spiega Luke, siccome era molto stanco e ubriaco, aveva deciso di andare a letto lasciando Kaylee e il suo vicino Stephen seduti in salotto. Luke racconta che, quando si era svegliato la mattina seguente, non aveva più trovato in casa né Stephen né Kaylee. Quindi, secondo la versione di Luke, l'ultima volta che ha visto Kaylee, lei era in compagnia di Stephen. Luke dice che non ha idea di quello che si è successo dopo che era andato a dormire quel sabato sera. Dunque, ora la polizia ha un'altra persona di interesse per il caso, Stephen Bidman. La polizia ovviamente vuole interrogare anche lui, tuttavia Stephen non è nel suo appartamento, ma riescono a rintracciarlo a casa di un familiare in una cittadina vicina chiamata Colville. Quando lo trovano, viene arrestato immediatamente, così come Luke Harlow, con l'accusa di aver rapito Kaylee Haywood. Stephen viene portato alla stazione di polizia e interrogato. Chiedono anche a lui cosa stesse facendo la sera in cui Kaylee è scomparsa. Stephen fornisce lo stesso resoconto di Luke, spiega che sabato sera era andato a casa del suo vicino e che avevano bevuto con Kaylee. Tuttavia Stephen contraddice Luke, affermando che aveva lasciato quella casa intorno a mezzanotte. In quel momento Luke e Kaylee erano seduti insieme nel soggiorno. Quindi Luke aveva detto che l'ultima volta che aveva visto Kaylee, lei era con Stephen, ma Stephen afferma l'esatto contrario, ovvero che era con Luke. È chiaro, no? Uno dei due uomini sta mentendo. Ma chi è il bugiardo? E chi invece sta dicendo la verità? La polizia presto inizia a sospettare che sia Stephen a non essere sincero. Crede che lui sappia di più su quella notte. Il motivo? Il suo aspetto. Appena la polizia arrestato Stephen, ha notato che lui riporta diverse ferite sul viso. Insomma, sembra che sia stato picchiato. La polizia dunque chiede a Stephen come si sia procurato quelle ferite e lui spiega che era caduto mentre era al lavoro e aveva sbattuto la testa. Stephen fa il giardiniere paesaggista, tuttavia la polizia non gli crede e presume che possa essersi ferito durante una lita con Kaylee. Se Stephen avesse fatto qualcosa di brutto a Kaylee, se l'avesse aggredita o se addirittura avesse tentato di ucciderla, allora lei, per difendersi, avrebbe potuto ferirlo. Inoltre la polizia ha ottenuto diverse dichiarazioni interessanti dai vicini di casa di Luke e Stephen. La polizia, infatti, era andata di porta in porta nella zona in cui vivono i due uomini in cerca di informazioni. Forse qualcuno aveva sentito, visto qualcosa di utile per approfondire il caso di Kaylee. A quanto pare i due vicini dicono alla polizia che questa vato sera avevano sentito un sacco di colpi e schianti e avevano anche avvertito delle grida alle 21.10. Questi rumori sembravano provenire proprio dalla casa di Luke. Un altro testimone che vive lì vicino ha detto alla polizia che, nelle prime ore di domenica mattina, stava guardando fuori dalla finestra e aveva assistito a un alterco tra un uomo e una giovane donna. Aveva visto l'uomo immobilizzare la ragazza a terra e lei non era vestita in modo appropriato, considerando la temperatura esterna. Infatti indossava solo una maglietta e forse una gonna corta. Il testimone aveva visto che lei non aveva nulla che le coprisse le gambe, quindi doveva sentire davvero molto, molto freddo. L'osservatore aveva pensato che l'uomo che stava immobilizzando la giovane a terra fosse un agente di polizia. Tuttavia, alla fine, lui aveva aiutato la ragazza a sollevarsi. Avevano iniziato ad allontanarsi a braccetto. A questo punto, il testimone aveva intuito che quello non era un agente di polizia. Magari si era trattato di un comune litigio tra fidanzati. Può succedere. Sul momento, il testimone non aveva ritenuto necessario chiamare la polizia, ma quando gli investigatori hanno bussato alla sua porta per fargli qualche domanda, lui ha raccontato subito ciò che aveva visto quella mattina presto. Quando la polizia sente questo resoconto, teorizza che l'uomo e la giovane donna in questione fossero Kaylee e Stephen. Infatti, la descrizione del testimone sembra condurre più a lui che a Luke. Quindi Stephen aveva bloccato a terra la ragazzina. La polizia ovviamente lo interroga sull'episodio descritto, ma lui nega la sua colpevolezza. È chiaro che Stephen non ha alcuna intenzione di confessare, ma in questo caso il fattore tempo è essenziale perché Kaylee risulta ancora come una persona scomparsa e la polizia non ha idea di dove potrebbe essere. Mentre i detective continuano a interrogare sia Luke che Stephen, altre agenti sono in cerca di qualche traccia di Kaylee. Vengono arruolati 400 agenti per le ricerche che si estendono lungo le strade, nei campi, nelle aree boscose e negli specchi d'acqua. Oltre alla polizia si uniscono alle ricerche diversi cittadini. La notizia della scomparsa di Kaylee si diffonde rapidamente e tutta la comunità si riunisce per aiutare. Un paio di giorni dopo la scomparsa di Kaylee, un uomo sta portando a spasso il cane lungo un sentiero nella zona in cui vivono Luke e Stephen, vicino al Sains Valley Forest Park, a Ipstok. Mentre cammina nota un reggiseno rosa. Dall'aspetto l'indumento è chiaro che non si trova in strada da molto tempo, dato che non è molto sporco. In base al luogo in cui viene trovato, la polizia ha il forte sospetto che il reggiseno appartenga proprio a Kaylee. Fanno una foto al capo intimo e la mostrano alla mamma di Kaylee, Stephanie. E purtroppo la donna è sicura. Quello è il reggiseno di sua figlia. Gli agenti in realtà sono molto preoccupati, così come Stephanie. La scoperta di qualsiasi indumento appartenente a Kaylee sarebbe stata motivo di preoccupazione, ma il reggiseno suggerisce che lei possa aver subito un'aggressione intima. Tre giorni dopo la scomparsa di Kaylee, il 17 novembre 2015, la polizia decide di perquisire un magazzino di proprietà di Stephen, situato a 10 miglia di distanza da Ipstok. Pensa che lui possa aver nascosto Kaylee lì dentro. Se l'aveva rapita, forse il magazzino era il luogo dove l'aveva tenuto in ostaggio. Infatti la polizia, tramite i filmati di videosorveglianza del magazzino, riesce a determinare che Stephen era stato effettivamente lì la domenica in cui Kaylee era scomparsa. Purtroppo all'interno non vi è alcuna traccia della ragazzina. Nel magazzino non emerge nessuna prova, anzi è molto ordinato e non c'è nulla che sembri rilevante per il caso. Almeno all'interno. Ma non appena fuori dal magazzino, la polizia nota un cassonetto dei rifiuti e lo ispeziona. Tra i numerosi sacchetti della spazzatura, al di sopra di questi, ci sono una borsetta e una maglietta. Quando questi oggetti vengono mostrati alla madre di Kaylee, Stephanie, lei conferma di nuovo che appartengono a sua figlia. Questa è una prova che implica Stephen, dato che gli effetti personali di Kaylee sono stati trovati in un cassonetto appena fuori dal suo magazzino. Magazzino in cui, tra l'altro, si era recato lo stesso giorno in cui Kaylee era scomparsa. Questa finalmente è la prova concreta che lo collega alla sua sparizione. Chiaramente era stato lui a gettare quegli oggetti nel cassonetto, nel tentativo di disfarsi delle tracce dell'adolescente. La polizia decide anche di condurre una perquisizione nell'area di lavoro in cui Stephen, che vi ricordo è un giardiniere paesaggista, si sarebbe ferito. Cioè una fattoria in un villaggio di nome Bolton, a circa 8 miglia da Ibstock. Durante la ricerca gli agenti scoprono un falò con parecchi oggetti al di sopra. Il fuoco non è ancora stato acceso, ma è tutto pronto per farlo. La polizia esamina questi oggetti e individua alcuni capi di abbigliamento da uomo sporchi di sangue. Riesce a stabilire abbastanza velocemente che questi vestiti appartengono proprio a Stephen e che gli aveva indossati il sabato sera in cui era andato a casa di Luke, mentre Kaylee era lì. Se ricordate, lui e Luke erano andati in un negozio per comprare dell'alcol quella sera ed erano stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso del negozio. Dunque, i vestiti trovati nel falò sono gli stessi che Stephen indossava quella sera. Quando il sangue presente su questi abiti viene testato, risulta appartenere a Kaylee. Anche se la ragazza non è ancora stata ritrovata, la scoperta di questi vestiti macchiati di sangue rafforza i peggiori timori di tutti. Probabilmente Kaylee è stata uccisa. Sono passati giorni prima dell'ultima volta in cui è stata vista viva. In seguita alla scoperta di queste nuove prove, sia Stephen che Luke vengono arrestati nuovamente per l'omicidio di Kaylee. La polizia ne è certa a questo punto. Kaylee è deceduta e Stephen è chiaramente coinvolto nella sua morte. Tuttavia, attualmente la polizia non sa circoscrivere esattamente il coinvolgimento di Luke. Ovviamente era stato lui ad adescare Kaylee, era stato lui ad attirarla a casa sua, ma non si sa se sia coinvolto nella sua morte. Nonostante ciò, viene ugualmente arrestato per l'omicidio, mentre le indagini proseguono. I detective interrogano nuovamente Stephen e gli mostrano tutte le prove che hanno raccolto a suo carico, in particolare le tracce di sangue presenti sui vestiti. Così lui inizia a cedere finalmente. Vi ricordo che fino a questo momento Stephen ha negato di essere coinvolto, ha negato di sapere dove fosse Kaylee e che cosa le fosse successo, ma dopo che la polizia trova tutte queste prove, le quali suggeriscono il contrario, pare che Stephen si renda conto che non ha senso negare ancora. Così, la sera del 18 novembre 2015, quattro giorni dopo la scomparsa di Kaylee, Stephen Bidman confessa. Kaylee è morta. È stato lui ad ucciderla. In seguito rivela alla polizia il luogo in cui avrebbero trovato il corpo di Kaylee. Afferma di averlo abbandonato in un campo di fronte al Sains Valley Park, a Ibstock. La polizia quindi, quella stessa sera, si dirige in zona per iniziare le ricerche del corpo senza vita di Kaylee. Individuarlo però si rivela particolarmente difficile. È notte, quindi è buio. Queste non sono le condizioni ottimali per la ricerca di un cadavere. Sarebbe molto più semplice effettuare la ricerca durante il giorno, quando c'è luce. Tuttavia, gli agenti non sono disposti a rinviare la ricerca, ora che hanno i dettagli su dove Kaylee si trovi. Le ricerche proseguono per alcune ore affinché, poco dopo l'una di notte, le trovano. Il corpo di Kaylee viene scoperto su un terrapieno, in un campo circondato da un fitto sottobosco. La ragazza è quasi completamente nuda, l'unica cosa che ancora indossa è uno dei due calzini. Giace in una posizione piuttosto innaturale, distorta. Una parte del corpo è riverso sulla schiena e l'altra metà sul fianco. È chiaro, anche solo guardando il cadavere, che la sua morte è stata incredibilmente brutale. Era stata picchiata ferocemente con un oggetto pesante, il naso e la mascella sono rotti, era stata colpita ripetutamente sulla testa e in seguito l'autopsia determina che aveva anche subito violenza intima. Kaylee riporta diverse ferite di autodifesa su tutte e due le mani, quindi aveva provato a lottare con tutte le sue forze per salvarsi la vita. Ora che il corpo di Kaylee è stato ritrovato, la sua famiglia viene informata della tragica notizia e gli uomini responsabili vengono formalmente accusati in relazione alla sua morte. Stephen Bidman viene accusato di violenza intima e di omicidio, mentre l'accusa di Luke viene archiviata, dato che lo stesso Stephen ammette che Luke non era coinvolto nella morte della quindicenne. Ammesso che era stato soltanto lui a uccidere Kaylee. Luke, quindi, non viene accusato del suo omicidio, bensì di adescamento e di attività intima con una minorenne. Luke viene successivamente accusato di altri due capi di imputazione per adescamento, in quanto si scopre che Kaylee non è l'unica a cui aveva inviato dei messaggi inappropriati. Aveva contattato altre due ragazze. La polizia crede che gli eventi si siano svolti in questo modo. Si ritiene che Luke avesse invitato Stephen in casa per vantarsi con lui. Avevano convinto Kaylee a bere sempre di più perché sarebbe stato molto più facile per loro approfittarsi di lei. Stephen a un certo punto aveva iniziato a importunare Kaylee, aveva provato a baciarla e a toccarla e lei aveva cercato di respingerlo. Probabilmente i due uomini avevano cercato di trattenere Kaylee in casa. La polizia arriva a questa teoria considerando le urle e i colpi che i vicini di casa avevano sentito verso le 21.10, se vi ricordate. La persona che urlava doveva essere proprio Kaylee. Stava cercando di allontanarsi dai due uomini, di lasciare l'appartamento perché Stephen continuava a importunarla. Quindi si presume che i rumori avvertiti fossero stati causati proprio dai tentativi dei due uomini per impedire alla ragazza di scappare. Forse erano andati nel panico pensando che Kaylee volesse correre dalla polizia per denunciarli. Più tardi, nelle prime ore del mattino, la polizia teorizza che Kaylee fosse riuscita a scappare. Era corsa fuori da quella casa indossando solo una maglietta lunga. Ma Stephen l'aveva seguita. Era riuscito a raggiungerla e abbraccarla, come aveva affermato il testimone che stava guardando fuori dalla finestra, ma che non aveva allertato la polizia, visto che i due poi si erano allontanati insieme. È a quel punto che Kaylee aveva perso il suo telefono, che era poi stato ritrovato dal muratore. Quando Stephen e Kaylee si erano allontanati, lui l'aveva condotta fino a Sains Valley Forest Park. Stephen confessa alla polizia che lì si era approfittato di lei. Ecco perché il suo reggiseno era stato ritrovato in quella zona. Si ritiene che dopo l'aggressione intima l'avesse portata nel campo o nell'area boschiva di fronte al parcheggio. Qui Kaylee aveva provato ancora una volta a scappare. Era riuscita a liberarsi e aveva iniziato a correre. Quando Stephen l'aveva raggiunta di nuovo, Kaylee però stavolta era armata, stringeva un mattone tra le mani che aveva trovato per terra. Così quando lo aveva provato ad aggredirla ancora, lei lo aveva colpito in faccia con il mattone. Questo gli aveva causato le ferite al viso, non l'incidente sul lavoro. Stephen però, purtroppo, era riuscito a strappare il mattone dalle mani di Kaylee e aveva iniziato a colpirla alla testa. Lei aveva cercato di difendersi e probabilmente si era protetta il viso il più possibile. Ecco perché riportava così tante ferite da difesa sulle mani. Ma Kaylee non aveva davvero più alcuna possibilità di scappare dal suo assassino purtroppo e venne a mancare a causa di queste terribili ferite. Dopo l'omicidio Stephen si era alzato e se n'era andato lasciando il corpo nudo di Kaylee nel campo. In seguito aveva cercato di eliminare le prove, aveva intenzione di bruciare i suoi vestiti sporchi di sangue in quel falò. Aveva abbandonato la borsa di Kaylee e la sua maglietta in quel cassonetto appena fuori dal suo magazzino. Ma non voleva adessare alcun sospetto. Infatti, quando era stato interrogato dalla polizia, aveva cercato di comportarsi nel modo più naturale possibile sostenendo che non aveva idea di cosa fosse successo. Finché le prove raccolte dalla polizia non avevano reso evidente che lui era il colpevole, non aveva più senso negare. Ormai gli investigatori le avevano beccato, anche se non avevano ancora ricostruito appieno la dinamica degli eventi di quella notte. Sia Stephen che Lucas si dichiarano colpevoli di tutte le accuse, tuttavia la polizia e la procura ritengono di avere prove sufficienti per accusarli anche di sequestro di persona. Le urla e i forti colpi uditi quella notte dimostrerebbero infatti che i due uomini avevano tenuto Kaylee in ostaggio per ore nella casa di Luke. Tuttavia, entrambi gli indagati negano questa circostanza, affermano che Kaylee non era tenuta prigioniera e che era libera di lasciare la casa quando voleva. Si dichiarano quindi colpevoli di tutte le altre accuse, tranne questa, e vanno a processo. Fortunatamente vengono entrambi giudicati colpevoli anche dell'accusa di sequestro di persona. Luke Harlow viene condannato a un totale di 12 anni, mentre Stephen Bidman viene condannato all'ergassolo con un minimo di 35 anni, quindi non può beneficiare della libertà condizionale fino al 2050. Tuttavia, Stephen trascorre solo 6 anni in prigione perché nell'aprile del 2021 muore a causa di un arresto cardiaco improvviso e di un'ipossia cerebrale. A seguito dell'omicidio di Kaylee, ci si rende conto che ciò che le è accaduto non è raro per gli adolescenti. I social purtroppo hanno reso l'adescamento ancora più semplice per i predatori come Luke Harlow. Infatti Luke non era l'unico che aveva tentato di adescare Kaylee. Secondo le fonti che ho consultato, un altro ragazzo di nome Bruce Cordwell, di 20 anni, era in contatto con lei e le stava inviando dei messaggi inappropriati. Viene condannato per questo a 43 mesi di reclusione, anche se successivamente verranno ridotti a 12. Kaylee era molto giovane e non aveva capito la gravità della situazione. I messaggi che riceveva da Luke e da Bruce le sembravano gentili e lusinghieri e le piaceva ricevere questi apprezzamenti e questa attenzione. Non si rendeva conto che questi ragazzi più grandi non stavano flirtando con lei in modo innocuo, ma stavano cercando di allescarla per avere dei rapporti intimi con lei. E questo purtroppo accade a tante ragazzine e adolescenti di tutto il mondo. La famiglia di Kaylee cerca di trarre forza dal grande dolore che prova. Quindi si mobilita, vuole fare qualcosa per rendere gli adolescenti più consapevoli dei pericoli del mondo online. Più consapevoli dei predatori che possono nascondersi dietro uno schermo. Così insieme alla polizia locale che ha indagato sul caso di Kaylee realizza un cortometraggio intitolato Kaylee's Love Story, in italiano la storia d'amore di Kaylee. Il cortometraggio racconta ciò che è successo alla giovane e in un certo senso ripercorre i suoi errori di valutazione perché aveva considerato innocenti i messaggi di uno sconosciuto incontrato su Facebook, che alla fine hanno portato alla sua morte. Il cortometraggio, ripeto, è stato creato per diffondere la consapevolezza dei pericoli dei social media e per trasmettere ai ragazzi i rischi dell'adescamento. Viene infatti mostrato a giovani adolescenti nelle scuole di tutto il paese. Il cortometraggio è disponibile su YouTube e conta più di 4 milioni di visualizzazioni. Se siete curiose di vederlo ve lo lascio nell'info box perché credo che ne valga la pena. Se avete figli adolescenti che un po' masticano l'inglese vi suggerisco di farglielo vedere. È importante che si rendano conto di quante facce ha internet. Certo è un ottimo strumento ma bisogna essere in grado di capire come usarlo e come no. Oggi questa urgenza è presente più che mai visto che siamo sempre più connessi e i ragazzini possiedono smartphone fin da giovanissimi. Io ho finito di parlare di questo caso e l'ho trovato molto molto triste ma credo che sia importante parlare delle insidie di internet e di come questo mezzo può essere usato per fare del male al prossimo. Quindi trovo che sia utile sempre parlare ogni tanto di questi casi che hanno avuto vita grazie a internet. Se non ci fossero stati i social che li non avrebbe mai e poi mai ricevuto un messaggio da Luke. E quindi tutto questo non sarebbe successo. Quindi fate attenzione, fate davvero molta attenzione, non date confidenza a gente sconosciuta sui social perché dietro un profilo può nascondersi chiunque, chiunque può fingere di essere qualcun altro. Quindi fate attenzione. Io spero che questo video sia stato di vostro interesse. Fatemi sapere se conoscevate questo caso, cosa ne pensate di questo caso. Come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti. Detto questo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.